Parliamo di comunicazione assertiva. Ti sei mai chiesto o chiesta come comunicare efficacemente con qualcuno? Il tuo partner, il tuo datore di lavoro, un tuo amico, i tuoi genitori, tuo figlio? Benissimo. Sulla comunicazione assertiva si è detto tantissimo, trovi una marea di contenuti in rete, sul mio canale trovi diversi spunti e diversi approcci e filoni legati alla comunicazione, la comunicazione efficace e anche la comunicazione assertiva. Ho fatto anche un webinar dedicato a come comunicare efficacemente in copia che prende spunto da dei presupposti, paradigmi della comunicazione assertiva. In questo video voglio darti delle pillole, 5 tips che ti aiutano a tenere a focus come comunicare efficacemente, come comunicare assertivamente. La comunicazione assertiva, partiamo da una piccola definizione, è la volontà di comunicare chiaramente ed esplicitamente, senza paura, i propri bisogni, i propri desideri, con un interesse sincero nel tentativo di trovare un accordo con l'altro e quindi presuppone una volontà di aprirsi all'altro. Vediamo in che cosa consistono. Punto numero 1, sii chiaro nel tuo linguaggio. È molto meglio essere percepiti come duri ma non correre il rischio di essere fraintesi che fare mille giri di parole senza far capire chiaramente qual è il tuo bisogno e qual è l'oggetto della tua comunicazione. Punto numero 2, ascolta e poi rispondi. Non attendi che l'altro abbia finito di parlare, di dire le sue cose e poi rispondi come molte volte facciamo. Quante volte una persona ci si presenta e ci dice il suo nome e noi non ci ricordiamo dopo un secondo come si chiama perché siamo più concentrati a ripeterci nella testa il nostro che conosciamo da una vita per fare bella figura e dirlo bene anziché ascoltare l'altro. C'è anche un bel detto di Zenone, se non sbaglio, che dice se abbiamo due orecchie ed una bocca solo dovremo ascoltare il doppio di quanto parliamo. Quindi ascolta prima di rispondere e ascolta prima di parlare. Non attendi prima di parlare, ascolta quello che l'altro ti sta dicendo e poi formula la tua risposta. Punto numero 3, usa messaggi io e non messaggi tu, ovvero quando parli con qualcuno parla di come ti senti, di quello che pensi, di quello che hai percepito. Non dire all'altro cosa dovrebbe fare, dire, pensare o commentare o giudicare il comportamento dell'altro. Parla sempre di te e di quello che senti. Puoi parlare di come il comportamento dell'altro ti ha fatto sentire ma parla di te, usa i messaggi io. Non parlare quello che ha fatto l'altro o che dovrebbe fare dire o pensare l'altro. Punto numero 4, se ti senti sopraffatto e ci sta all'interno delle discussioni, delle conversazioni, comunicazioni animate, molte volte perdiamo la lucidità e alcuni arrivano anche a dire delle cose che assolutamente non pensano. Fermati, fermati, chiedi una pausa, time out, toppa, e poi eventualmente riprendi. Perché è molto meglio resistere alla volontà di far uscire quel fiume in piena delle emozioni piuttosto che poi pentirsi invece di aver detto delle cose magari irreparabili in un momento, di dire un momento di emotività a mille. Punto numero 5, fondamentale, accetta il disaccordo. Non sta scritto da nessuna parte che una conversazione, una comunicazione, un confronto deve necessariamente esitare con un accordo reciproco. O meglio ancora, non sta scritto da nessuna parte che nella comunicazione ci sia una sorta di battaglia implicita in cui io cerco di convincere l'altro del fatto che la mia idea sia migliore e quindi l'esito della comunicazione è positivo esclusivamente nel momento in cui l'altro mi dà ragione. Puoi accettare il disaccordo e potete concordare sul fatto di non essere in accordo ma al tempo stesso legittimare l'idea dell'altro che è diversa dalla vostra. Queste sono solo 5 regolette, 5 consigli, 5 tips che però mi sentivo di dare per far sì che possano essere tenute a mente. Sono sicuramente semplici ma nel momento in cui vengono applicate risultano essere estremamente potenti. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se ne hai mai provati in passato, fammi sapere se ce ne sono altri che ad esempio usi che per te non sono efficaci perché sulla comunicazione noi basiamo la costruzione della nostra realtà e per questo è un tema fondamentale per la qualità della nostra vita. Se ti interessano questi video e vuoi rimanere aggiornato a giornata ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella. A presto!